Allora, veramente è spiacevole notare che tutto quello che è scritto nella mozione è stato totalmente mistificato cercando di deviare l'attenzione dei cittadini su un'altra tematica che non c'entra assolutamente nulla sul controllo delle flotte aziendali. Noi parliamo di centinaia e centinaia di macchine, le macchine di servizio le abbiamo ridotte ma questa mozione non c'entra assolutamente nulla quindi l'ennesimo tentativo, io credo nella buona fede del collega perché tra l'altro è sempre molto attento nel valutare le proposte ma in questo caso evidentemente quell'attenzione è mancata perché nessuno ha mai immaginato di limitare questo tipo di nuovo sistema di verifica, controllo e gestione delle flotte aziendali noi ricordiamo ai cittadini che parliamo di sistemi che già sono in uso da anni in ATAC, noi parliamo delle partecipate dovrebbero essere implementati tutti i mezzi dell'AMA, qui non parliamo delle macchine di servizio che è un tema da affrontare è già stato affrontato ma non siamo fuori proprio da quella che è l'intenzione della mozione, noi parliamo di tutte le partecipate parliamo anche dell'autoparco di Roma, sì perché no, ma il discorso di ridurre una battaglia politica, una mozione di questo tipo che è evidentemente a vantaggio di tutti i cittadini, noi per quanto ci riguarda, io per esempio ho mai preso un taxi ma è qualche volta la navetta, spesso vado a piedi quindi come dire lo spirito del movimento per quanto mi riguarda è fuori discussione ma qui parliamo di ottimizzazione di flotte aziendali, non parliamo di farci una passeggiata a piedi per evitare l'uso della navetta che opportunamente l'ufficio di presidenza ha istituito, quindi dispiace anche che non parteciperete al voto ma questo è il futuro e come dimostrano tutte le aziende di grosso calibro che hanno utilizzato questo sistema per migliorare, efficientare e soprattutto ridurre i costi al fine di garantire sicurezza dei lavoratori e anche i posti di lavoro perché non dimentichiamoci che quando ci sono degli sprechi poi arrivano i tagli e questo è successo nel passato e questa è la vera sfida che la politica del passato non ha saputo affrontare perché gonfiare le aziende partecipate di persone che poi non vengono utilizzate in maniera propria diventa un boomer anche per i lavoratori stessi che a un certo punto si vedono i bilanci gonfiati e a quel punto diventa un problema mi riferisco a tutte le pratiche di risanamento azientale che stiamo mettendo in atto quindi questa pratica che a livello preventivo è formidabile, scontata e addirittura applicata in tutto il mondo occidentale è una cosa banalissima che va sicuramente migliorata lo stiamo già facendo, ricordo in AMA sono stati acquistati 1500 rilevatori RFID e quindi mi dispiace confermare che il voto sarà favorevole e assolutamente positivo grazie a tutti